3 milioni di euro a favore di piccole e medie imprese che hanno necessità di far fronte ai danni provocati dalle alluvioni che si sono abbattute sul ponente Ligure il 24 e 25 novembre del 2016. Si tratta della seconda misura messa in campo dalla regione destinata alle province di Savona e Imperia, in particolare alla Val Bormida, territorio che ha subito danni pesantissimi. Lo ha fatto sapere il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Angelo Vaccarezza, sottolineando che grazie all'impegno dell'ente regionale le piccole medie imprese del ponente avranno un'altra boccata di ossigeno con l'utilizzo di fondi PORFESER 2014-2020. Le imprese infatti avranno a disposizione finanziamenti a fondo perduto fino a 200 mila euro da investire in macchinari, impianti e sviluppo di iniziative per facilitare la ripresa della produzione. Sarà possibile presentare la domanda online sul sito di Fils entro il 16 ottobre. Questo bando molto atteso dal territorio si aggiunge a quello promosso a luglio del valore di 2,8 milioni di euro e destinato a prestiti agevolati per il ripristino degli immobili o il trasferimento in nuove sedi.